Il progetto Ora, fare orientamento in Abruzzo, è la nuova iniziativa dell'associazione ROW, Residence of Abruzzo in the World. Si tratta di un campus di orientamento universitario che si svolgerà a Roccaraso dal 1 al 3 settembre, indirizzato a studenti particolarmente meritevoli selezionati nelle scuole superiori della regione Abruzzo, al fine di sostenerne i meriti scolastici e di supportare gli studenti nella scelta dei futuri studi universitari, attraverso la presentazione e gli esperienze professionali di spicco. Il progetto, che sia il vale dell'alto patrocinio della regione Abruzzo e del comune di Roccaraso, è interamente organizzato e finanziato dal ROW e da suoi soci e la partecipazione per gli studenti è totalmente gratuita. Durante il campus di tre giorni, gli studenti selezionati approfondiranno temi di attualità che spaziano dall'economia alla giurisprudenza, dalla medicina al management. Lo chef stellato William Zonfa, del Magione Papale dell'Aquila, interverrà venerdì 2 settembre dalle ore 11 alle 12 con il tema management della cucina. Per lo più di natura informale e volto al dialogo, il contributo dello chef sarà atteso ad offrire agli studenti il proprio vissuto professionale, il modo più diretto per i ragazzi in età da formazione di visualizzare eventuali scelte di vita attraverso esperienze, errori, competenze sviluppate da professionisti più grandi e di complessa maturità professionale. A tal proposito, Zonfa porterà due video ricette con le quali racconterà la sua filosofia culinaria, ancorata al grande passato della tradizione e tesa al futuro dell'innovazione, equilibrio difficilissimo da ottenere e raggiungibile solo attraverso profondo studio e attenta ricerca. Conclude lo chef affermando di partecipare con gran piacere a queste iniziative, le quali, anche se brevi, costituiscono dei trampolini di lancio utili a far comprendere e delle scelte lavorative in maniera concreta ai ragazzi in età da formazione.